E allora è tutto pronto, partiti cavalli della seconda corsa del pomeriggio. In tre fanno partenza, in particolare Widow, poi Choi, che si ritrae comunque alle spalle di Widow, più al centro a pista il favorito Mr. Thor, la seconda linea è completata dalla giuba azzurra Flying Horse, e poi Tago Island, che non è partito benissimo, è stato già sostenuto dal suo interprete per ricongiungersi al resto dei partecipanti. I primi 400 metri se ne sono andati via così, con all'interno Widow lungo la corda. In seconda corsia, un altro binario, troviamo Mr. Thor in terza posizione dietro a questi, cioè poi Flying Horse ed ancora Tago Island. Si va così con Widow messa già sotto pressione da Mr. Thor, poi dietro a questi Flying Horse che sta cercando la schiena giusta, paletto dei 400 con Mr. Thor che è passato in vantaggio, sposta all'esterno Flying Horse che adesso si getta all'inseguimento e prova l'attacco rispetto a Mr. Thor, è rimasta in quota anche Widow, gli altri due che sono veramente molto lontani negli ultimi 150 metri di gara. Flying Horse è passato, converge lungo la corda e vince facile la Maiden, relegando ancora ad un secondo posto Mr. Thor al terzo Widow. Flying Horse dunque che vince dopo il quinto posto del debutto. Gabriele Cannarella in sella, Sebastiano Guerriere al training, ancora una vittoria per il team siciliano, i colori sono quelli della scuderia Semeso. Due al primo, tre al secondo, cinque al terzo. L'ordine d'arrivo ufficioso della Maiden, vince dunque il figlio di Prince of Lear che aveva una quota di 3,75. Guarda qua, Gabriele Cannarella guarda verso la tribuna o verso Sebastiano Guerrieri con tanto di esultanza. Queste sono belle immagini sicuramente, fermando vince Flying Horse 2-3 e poi 5, l'ordine d'arrivo ufficioso della seconda corsa da Capannella è tutto. Grazie.